Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi parlerò della mia collezione di telefonini, come dicono i vecchi. Allora, partiamo con il più vecchio di tutti, che penso tutti quelli della mia generazione hanno avuto. Ovvero, il mitico e intramontabile 3310, che tra l'altro ho scoperto hanno rifatto nuovo, che è orrendo, però va bene. Questo è il 3310, con la cover di Bugs Bunny e Lola Bunny. Sono molto affezionata a questo telefono perché è il primo che io abbia mai posseduto e quindi ovviamente è legato alla mia infanzia. I miei mi hanno legato il mio primo telefono quando sono andata, penso, in prima media. Quindi sì, dalle medie ho iniziato ad avere i telefonini, prima non l'avevo. Adesso vedo bambini che ce l'hanno, tipo 8 anni. Io so che questo discorso è molto da vecchia, però d'altro canto un po' lo sono. Comunque sì, questo è il mio primo telefono. Il mio secondo telefono, c'è stato un upgrade non da poco, è questo dell'LG, che si apre, così, tipo, a molla. Infatti è indistruttibile, però non è come quelli più nuovi che slittavano, questi è di quelli ancora che si aprono e si chiudono. Fate sentire il rumore, cioè è improbabile. E questo, come potete vedere, ha marcato 3, perché praticamente c'è un'offerta della 3, che, la 3 che ha avuto sempre molto buon gusto, hanno detto, aspettate che vi regaliamo questi due bellissimi telefonini. Quindi ce n'è, anche mia madre ne aveva un uguale. Non so perché l'ho preso, tra l'altro, con le bande rosse, veramente ignobile. Tra l'altro l'antenna si svita e funziona lo stesso il telefono, quindi non so, sinceramente, a cosa possa servire. E questo è stato il mio secondo telefono, che, come potete vedere, ha anche le foto. Quindi è stato un upgrade non da poco, il 3310 non era neanche a colori. Quindi sì. Però, questo qua, devo essere sincera, non l'ho mai apprezzato, come avrei dovuto. Perché, dopo questo, ho avuto un telefono che, purtroppo, non vi posso mostrare perché me l'hanno rubato. Che era il Nokia N80. Vi metterò una foto qui, se nel caso non lo conoscete. Se non lo conoscete, comunque, disonore su di voi e sulla vostra stirpe. Comunque, me l'hanno rubato, tipo, una volta che ero in discoteca. E quindi, niente, non ve lo posso provvedere perché solo Dio sa dove è finito il mio anni 80. C'ero molto affezionata. Avevo un sacco di messaggi carini, tipo, salvati sopra. Ovviamente anche quelli sono andati a fanculo perché, sai com'è. Niente, questa storia è molto triste, però volevo raccontarvela perché, effettivamente, il prossimo telefono ha un altro salto generazionale non da poco. E non è giustificabile. Cioè, non pensate che io abbia tenuto questo telefono per più di un anno e mezzo, due anni, perché era veramente orrendo. Cioè, a parte il fatto che aveva la telecamera che si girava, per il resto era veramente qualcosa di ignobile, perché le foto erano tipo un megapixel e bella grazia. Scusate che forse c'è scritto sopra. Vediamo. No, non ce l'ha scritto perché fa così schifo questa telecamera che non ce l'ha neanche scritto quanti pixel ha. Comunque le foto erano veramente ignobili e il sistema operativo dell'LG è qualcosa di abominevole. Io non so chi l'abbia fatto, ma è veramente cosceno. Qui, appunto, dopo ho avuto l'anno 80. Dopo l'anno 80, quando l'hanno rubato, sono dovuta tornare al 3310, perché avevo solo quello come telefono più vecchio e questo bellissimo LG non si è mai più acceso, quindi ho perso il cavetto, non mi ricordo. Comunque sapete che una volta i cavetti erano tutti diversi per ogni telefono, quindi era un po' un problema. Allora, cosa ho fatto? Sono tornata al 3310 e i miei amici, che erano tanto gentili e carini, per il mio compleanno mi hanno regalato un telefono. E il telefono in questione è questo LG, che penso lo sponsorizzassero come tipo LG Drive o una roba del genere, perché era swag, swag per i giovani. E come potete vedere è bianco e verde, che è il verde del mio colore preferito, quindi me l'ho preso così perché sono stati molto carini. E questo l'ho usato un bel po' perché, come potete vedere, ha la tastiera QWERTY che si apre con lo scorrimento. E scrivevo a busso perché era come praticamente essere nel computer, che bello quando c'erano ancora le tastiere fisiche, qualcosa di meraviglioso. Tra l'altro scrivevo anche in classe senza dover neanche guardare, perché ormai mi ricordavo a memoria dove fossero i tasti. Adesso è un po' più difficile. Comunque, questo qua me l'ha regalato per il mio compleanno. Purtroppo, dopo non tanto tempo che lo stavo utilizzando, praticamente cosa è successo? Che questo metodo di chiusura, a quanto pare è un po' un metodo del cazzo, nel senso che quando si chiude, deve esserci un contatto all'interno che fa come spegnere lo schermo, e a quanto pare spegnere anche il telefono. Quindi mi capitava spesso che io stessi scrivendo, chiudevo, e mi si spegneva il telefono senza nessun motivo. E mi è dispiaciuto un sacco perché a questo c'ero, cioè, c'ero veramente affezionata con il fatto che me lo avevano regalato i miei amici. E oltretutto era particolarmente carino per i telefoni dell'epoca. Quindi sì, ci sono rimasta male, però d'altro canto questa è una tipologia di chiusura che è un po' fragile, quindi ci può anche stare. Dopo che questo, cioè, quando questo ha iniziato a dare i suoi primi sintomi di morte, mio zio me ne ha regalato uno, ritornando alle origini, e mi ha regalato questo Nokia, di cui non mi ricordo sinceramente il nome, non c'è scritto sopra, comunque quello l'ho fatto così, uno dei primi con il touch screen, senza la tastiera fisica. Dietro è azzurro, cioè, io ce l'ho attaccato un cuoricino, perché sì. E questo qua è stato, penso, uno dei telefoni con il touch più merdoso mai creati in tutta la storia dei telefoni, perché i touch erano di quel tipo dove tu dovevi proprio fare pressione sullo schermo, sennò non digitavi assolutamente nulla. Infatti io ci andavo di unghia, infatti è stato un trauma dopo quando sono passata al touch, che non era più a pressione. Però, questo qua ha fatto, devo dire, ha fatto il suo lavoro, però per certe cose era ancora troppo indietro, cioè, magari c'erano degli altri telefoni che non avevano il sistema Symbian, ma avevano già un Android, non so adesso di preciso questo che è il sistema operativo, però fate conto che sembrava un Symbian più evoluto. E invece magari altri telefoni, tipo i Samsung, montavano già un sistema Android leggermente più evoluto, e questo era rimasto un po' indietro, sinceramente, anche perché per andare su Facebook aspettavo tipo una cosa come tre minuti per la verdura della home, che va bene tutto però, insomma, ecco, non esageriamo, ecco. Ecco, l'unica cosa comoda di questo telefono è che per aprirlo, cioè qua sotto c'è una specie di cosa dove si può fare leva, e la parte dietro è semi molle, non è perfettamente rigida, quindi comodissimo da togliere la batteria, tipo così, e il blocco era con questo tastino laterale, ed era, devo dire, un sistema di blocco abbastanza comodo, abbastanza, perché si teneva ancora, si riuscivano a tenere in mano ancora con una mano sola, i telefoni bei tempi, e quindi era parecchio comodo. Dopo questo c'è stato anche qua un salto generazionale non da poco, perché si passa da quel Nokia, che non so assolutamente come si possa chiamare, a questo qua, che è l'iPhone 4S. Io non so perché sono passata da un Nokia a un iPhone 4S, senza nessuno via di mezzo, in ogni caso, questo è stato il telefono precedente a quello che ho postato adesso, io adesso ho un iPhone SE, e questo è il mio 4S, ancora funzionante, l'ho cambiato perché si stava rallentando, ce l'avevo da 5 anni, e quindi penso che il suo lavoro l'abbia fatto, adesso lo tengo come telefono di riserva, nel caso succeda qualcosa, ho sempre questo di scorta, perché tutti gli altri che vi ho appena citato, non funzionano, a parte forse il 3310, che però ha una carica veramente residua, è veramente minima, dura tipo mezza giornata, e dopo lo devi ricaricare, però almeno si accende, gli altri invece per dire non si accendono nemmeno, invece questo è funzionante, quindi se ho bisogno di un telefono di scorta, se non altro, so che posso usare questo, e niente, vabbè, su questo non è che c'è molto da dire, è un iPhone 4S, quindi lo sapete, lo conoscete benissimo anche voi, non c'è bisogno che lo spieghi. Se vi può interessare, posso fare una recensione sull'SE che possiedo adesso, nel caso qualcuno di voi sia interessato, perché ho visto che, non essendo il top gamma, non è che ci siano molte recensioni in giro, comunque non è che ci siano molti pareri riguardo quel telefono, se non dicendo che è quello per i pezzenti praticamente, e che ci sta, perché effettivamente, però se vi può interessare, a qualcuno di voi, magari posso anche farvi vedere, magari come funziona, con te veloce, dopo un anno di utilizzo, sempre se vi può interessare. Spero che questo video vi sia piaciuto, spero che con me abbiate fatto un tuffo nel passato, fatemi sapere sotto nei commenti, quali telefoni avevate voi, quale telefono avete adesso, se siete rimasti indietro, o invece adesso siete aggiornati all'ultimo modello, e mi raccomando, fatemi anche sapere, a quanti di voi, il 3310 è caduto giù dalle scale, senza che gli sia successo assolutamente nulla. Se il video vi è piaciuto, lasciate un pollice in su, alla prossima, ciao! Spero che con me abbiate fatto un salto nel... Erano giusti i verbi?